Salve a tutti cari colleghi, benvenuti a questo nuovo video del titolo Come ho costruito il mio successo? Asterischi su successo, è molto personale la cosa. Io vi dico, siccome arrivo a questo video, per cercare di soddisfare la perversione di qualcuno di sapere cosa faccio, come penso, alcune cose che magari sono extra lavorative anche se in realtà non è tanto fuori dal lavoro, perché alcune cose mie le tengo per me. Allora, detto questo, mi presento, sono Simone Rossi, sono un agente immobiliare come te e per tre anni consecutivi sono stato il primo team Remax per fatturato e diciannovesimo team al mondo a un certo punto della mia carriera e diciamo che a marzo 2021 le mie energie, il 99% delle mie energie, sono concentrato sulla mia azienda di formazione, che ha più di 3.000 agenti, studenti paganti, i migliori broker in Italia, hanno fatto dei programmi di formazione con me, eccetera, eccetera e diciamo che io adesso sono lì, mi soddisfa questa roba qui. Magari mai già visto su Skype, la CNBC, adesso vado di nuovo in Skype, per cui una serie di cose che mi hanno dato un po' di visibilità e che questa storia sicuramente è stata utile, ragazzi, non parliamoci in giro su quello che poteva essere comunque il mio posizionamento in ambito formativo. Però quello che vi voglio dire è tutto quello che racconto l'ho fatto almeno mille volte sul campo, non sentendo, leggendo, facendo. Ok? Per cui le cose che insegno ai miei studenti, che stanno ottenendo dei risultati, è semplicemente che sono cose che ho già fatto io. La linea l'ho già tirata. Andiamo al video. Come ho costruito il mio successo? Ci sono un po' di principi cardine che per me sono stati davvero, come posso dire, sono importanti. Non sono stati, sono stati, sono importanti. Per esempio, ed è la prima cosa che metto, io non sono mai stato particolarmente attratto da auto particolari, orologi di lusso, anzi oggi non ce l'ho neanche, ok? E c'è questo termine, lusso legato alle cose, a parte casa mia, che poi non posso neanche definirlo, è una bella casa, ma me la sono fatta come volevo, a parte quello, il tema qual è? Che io sono rimasto sempre molto più concentrato a quello che era comprare il tempo degli altri. Tempo. Perché semplicemente, sapevo benissimo, avendo una vita leggermente complicata, meno di un minatore, per l'amor del cielo, ma un po' complicata, con qualche azienda, con 13-14 persone che lavorano intorno a me, e comunque una famiglia, dei bambini, una serie di cose, ok? Io ho capito che se volevo avere il focus giusto, una delle cose più importanti per me era acquistare il tempo degli altri, per cui avere un assistente personale, che è con me da un po' di anni, e a lei delego tutto quello che non è prettamente un'attività high money value nel mio lavoro, per cui se c'è da prenotare un hotel, ci fa lei che siano hotel per vacanze, o hotel anche perché sono in giro a fare un evento formativo, voli, e piuttosto che banca, poste, piuttosto che quello, piuttosto che quell'altro, diamo un'occhiata, c'è da sistemare, c'è da pagare, amen. Non me ne occupo io, ho comprato il tempo di qualcuno che lo fa per me. Come anche tutto quello che riguarda, io odio aspettare, per cui se devo pensare a fare la fila in qualcosa, esiste un modo pagando di non fare la fila? Perché è una cosa che mi indispone, non so come appena ho potuto, la prima cosa che ho evitato è la fila in aeroporto, ok? È chiaro che se viaggi in business, o in prima classe, o hai la lounge, è chiaro che lei eviti la fila, per cui per me questo è per esempio una cosa dove io ci spendo dei soldini. Per quanto riguarda i viaggi, avere sempre quella parte, un pochino di esclusività, che ti evita di fare la fila al ristorante, quel posto, poi devo prendere quello, non mi piace, non so, forse è troppo mio, però il tema dell'assistente è invece una cosa molto importante, ok? Molto importante perché una giornata di 24 ore è uguale per tutti, per cui quelli che fanno di più è semplicemente perché avvengono tante cose che possono delegare a un assistente che non gli drena energia nella testa. Nel lungo questo aiuta un bel po', ok? Per cui primo tema, io ho cercato di delegare, comprare il tempo delle persone, non tanto oggetti di lusso, queste cose qui, era più importante quello per me, per scalare l'azienda. Il secondo tema è stato quello che ho capito che una delle cose più importanti è essere continuamente esposti in ambienti di successo, possiamo definire di successo, piuttosto che performanti, eccetera, eccetera. Io ho almeno un paio di mastermind all'anno, anche fuori dal nostro ambito, ma con imprenditori di un certo tipo me le faccio, perché so benissimo che le idee e le intuizioni vengono solo nel momento in cui tu ti chiudi un po' di giorni e con delle persone di un certo livello. Tu dovresti essere sempre più scemo della sala, perché quello vuol dire che sei in un ambiente dove puoi imparare. E se stai a un po' di tempo a contatto con questo genere di persone, quello che succede è che sali di frequenza. Sali di frequenza in modo e maniera che vai ad attingere, non voglio entrare troppo nel merito, se no dovrei fare un discorso troppo lungo, eccetera, ma vai a attingere a dei pensieri, a cominciare a far dei ragionamenti, perché senti come ragionano loro, cosa fanno loro, cosa farebbero, cosa gli ha cambiato la vita, in che maniera ragionano nei confronti di quelle problematiche, difficoltà, o quando devo prendere una decisione, che a un certo punto, a distanza di tempo, ti vengono delle idee, delle intuizioni. Eh, ma queste idee e queste intuizioni sono sempre una fisiologica conseguenza del fatto che tu hai vissuto un ambiente con persone di un certo tipo. Per cui, una delle cose più importanti per me è sapere che due volte all'anno io prendo il mio aereo, vado a Dubai o vado in altri posti, e frequento Mastermind o altre situazioni con persone che sono a un livello superiore rispetto al mio. Ok? Quindi, esponiti appena puoi a persone di successo. È chiaro che certamente di quel tipo bisogna pagare, ragazzi. Ok? Perché altrimenti diventa un pochino più complicato mettere a sedere innanzitutto persone di un certo livello e vanno in ambienti dove c'è la vera condivisione. La condivisione è io ti do una mela e tu mi dai una pera. Magari non fattori come me, ma io magari ero più esperto in quel tavolo lì del mercato immobiliare. Tante cose, io ero in questo Mastermind a Dubai dove sostanzialmente qualcuno ha saputo che lavoro facevo, doveva vendere una casa a Milano, insomma, il Mastermind ne lo sono pagato per 10 perché dopo gli ho venduto la casa a Milano, eccetera, eccetera. Però, come vedi, io ho dato informazioni, ho condiviso il mio saper specifico dove ero molto bravo verso magari un settore dove questo era bravissimo, faceva 50 milioni di euro e quindi è chiaro che mi prendeva scapellotti, però su questo tema gli mancavo. Questo, la condivisione vera è tu mi dai una pera e io ti do una mela. Non io ti do sempre la mela perché sennò uno si rompe anche le palle, ok? Per cui esponiti in ambienti, a persone che puoi trovare in ambienti di successo. Un'altra cosa importantissima, ragazzi, è che io studio sempre. Studio sempre. Sempre. Vuol dire tutti i giorni, almeno, ragazzi, un'ora, un'ora e mezza, io studio. Semplicemente perché se tu guadagni più soldi di altre persone è semplicemente perché sai e fai, sai delle cose che gli altri non sanno e fai delle cose che gli altri non fanno, ok? Per cui io so e si collega un po' anche al tema del tempo che esiste un modo per hackerare il tempo necessario per passare dal tuo oggi al tuo vero obiettivo e per hackerare questo tempo, questa linea del tempo, l'unico modo che puoi fare è in qualche maniera studiare e lo puoi moltiplicare per dieci se vai a studiare da mentori, da persone che nel tuo campo specifico in questo caso hanno già ottenuto quello, l'obiettivo che vuoi ottenere da. Per cui nel momento in cui studi e vai a studiare da persone che hanno già ottenuto nel tuo campo specifico lo stesso obiettivo a cui tu ambisci, è chiaro ragazzi che il mentore ti dà la possibilità di dirti cosa fare ma ti dà anche la possibilità di dirti che cosa non deve fare ma semplicemente perché lui l'ha già testato. Esperienza pratica sul campo. Quando tu cerchi un mentor deve aver ottenuto risultati in quel campo specifico e devono essere tangibili, discretamente recenti, non 50 anni fa perché è cambiato il mondo, una volta 50 anni fa passavano i fattorini del ghiaccio e ti davano il ghiaccio e te lo ribaltavano e tu tenevi refrigerato il cibo. Oggi ci sono il frigo in tutte le case per cui capite che si è sempre il tema raffreddare e non far marcire le robe ma si fa in maniera diversa. Ok? Per cui è molto importante per me almeno è molto importante che quando io studio io studio sempre materiali di persone che hanno già ottenuto quello che voglio ottenere nel mio campo. Ok? per cui ho vestito 250-300 mila euro negli ultimi dieci anni in formazione alcuni hanno pensato che era un pazzo ma le evidenze mi hanno detto che mi hanno fatto fare per 3-4-5 e c'è stato un premio lo trovi sempre su YouTube che mi è stato riconosciuto per la prima volta in Italia in Remax per 3 milioni di dollari fatturati in 4 anni e mezzo. Sì, è vero, ho speso 250 mila però ho fatto per 10. Ne valsa la pena? Forse sono stato un pazzo ma ne valsa assolutamente la pena. Per cui trova studia dedica del tempo tutti i giorni a studiare ok? E cerca di studiare esclusivamente da persone che hanno già ottenuto il risultato che tu hai come obiettivo. È fondamentale questa roba qui. Ok? Per cui sto pensando se c'erano altre cose. Direi di no ne parliamo comunque nel prossimo video che sarà la parte B. Rifacciamo un recap perché è molto importante. Primo tema importante è crea una come posso dire una fortezza sul tuo tempo. In qualche maniera cerca di se puoi delegare il più possibile avere un assistente personale è molto meglio di avere un Rolex ragazzi ve lo dico molto francamente semplicemente perché quell'assistente personale ti dà la possibilità di scalare la tua azienda perché tutto il tempo che soprattutto in una fase che sei in crescita lo devi dedicare a robe che puoi delegare e è quel tempo necessario che se riesci a delegarlo quello ti riesci a concentrare su quelle attività invece che ti fanno scalare velocemente. Ok? È chiaro che è l'uscita di cassa dell'assistente ma è anche vero che grazie a quello tu ti cavi tutte le rotture di balle e rimani comunque sulle cose veramente importanti della tua attività. Ok? Seconda cosa cerca di esporti verso persone di successo in ambienti stimolanti mastermind o mastermind o nella mia azienda di formazione facciamo due mastermind con i migliori top producer semplicemente perché so che è importante vivere quel tipo di ambienti avere a che fare parlare vedere come si muovono i top producer come pensano come prendono le decisioni una delle cose più importanti delle persone di successo è che nei momenti in cui hanno un investimento da fare la domanda che si fanno è quanto mi costerebbe non prendere questa decisione per cui non si concentrano su quello che può essere e se poi non va bene sì e se invece va bene e non lo facessi questo è un esempio che ho dovuto sostituire nel tempo terzo tema studia sempre 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 cerca di bloccarti un'ora almeno al giorno e cerca di studiare i materiali di mentoli persone che hanno già ottenuto perché solo grazie a questo eviterai gli errori farai subito le cose giuste e ovviamente il tempo necessario per arrivare al tuo obiettivo con queste informazioni è per dieci ok ragazzi spero che questo video vi sia stato utile ci sarà una seconda parte sugli altri tre punti quattro quattro punti scusate per cui se la cosa ti è piaciuta sotto è la possibilità di fare like scrivimi un commento iscriviti al canale ci vediamo al prossimo video ciao